uno live. Ciao a tutti bentornati su Truffle for Dummies la cerca del tartufo per novellini come ogni mercoledì siamo qui in diretta insieme al nostro amatissimo dottor Dario Capogrosso. Ciao Dario. Ciao Davide. Ciao gli amici di Truffle for Dummies. Ciao a tutti. Allora come sempre prima di cominciare ringrazio tutti i Patreon di Truffle for Dummies che hanno visitato la piattaforma www.patreon.com slash Truffle for Dummies e hanno deciso di sostenere tramite un abbonamento il canale mentre vi ricordo a tutti quelli che non hanno voglia invece di fare l'abbonamento che qua sotto la stringa dove potete scrivere i vostri commenti eh durante la diretta c'è un disegnino con un dollarino cliccandoci sopra potrete eh Antonio Camazzola ciao ciao Lorenzo Mantegazza potete sostenere il canale eh mandando un adesivo oppure mettendo un'evidenza un commento o una domanda eccoci qua allora iniziamo oggi parliamo un po' dei progetti futuri che abbiamo con la Dertona Truffle Academy per chi non sapesse cos'è la Dertona Truffle Academy è stata è una associazione sportiva che abbiamo fondato eh ideata da me e Dario poi fondata da appunto dalla dall'attuale dall'attuale direttivo che si occupa sostanzialmente di valorizzare il tartufo la cerca del tartufo e i territori su cui questa su cui questa avviene quindi sostanzialmente si divide in due macro categorie appunto eventi eh possiamo chiamarli più divulgativi ed eventi invece più legati all'addestramento sostanzialmente dei cani e all' addestramento dei cani e alla parte di lezioni che possono essere che saranno nei nostri progetti magari in compagnia di di micologhi di di micologi scusate di geologi per studiare il terreno comunque tutta la parte sia teorica e pratica che sta intorno al tartufo invece la parte che dicevo più divulgativa possono essere eventi pubblici in cui andiamo a presentare nuovi progetti oppure anche eventi un pochino più ludici come possono come saranno poi in futuro anche le truffle experience per chi partirà da zero avrà voglia di avvicinarsi a questo mondo e passare dei bei momenti in compagnia nostra dei cani e dei territori meravigliosi in cui si cava il tartufo quindi questa in in breve è la Dertona Truffle Academy abbiamo già fatto una serie di stage che abbiamo iniziato a aprile maggio giugno a giugno e iniziare ad aprile poi per questioni covid siamo partiti da giugno abbiamo già organizzato quattro stage due sono già venuti insieme a Luigi Di Bacco della scuola Maiella ora proprio questo weekend avremo un altro stage insieme a Luigi Di Bacco e poi l'ultimo che chiuderà questa serie ma che non sarà l'ultimo insieme a Luigi anzi saranno i primi di una lunga serie che si svolgerà il ventuno ventidue agosto questi sono stage che ripercorrono in generale il il percorso formativo proposto dalla dalla scuola Maiella anzi tra l'altro vi avevo detto lunedì che si erano liberati tre posti i posti sono diventati due ci sono ancora due posti liberi per questo weekend se qualcuno si volesse aggiungere all'ultimo momento e non è più sold out abbiamo recuperato ancora due posti quindi nel caso contattatemi in privato e potrete iscrivervi intanto saluto Megna Giuseppe Angelo Papa ciao benvenuti oggi parleremo in questa puntata insieme a Dario di un altro progetto futuro che che abbiamo come appunto Dertona Traffola Academy che spazia un po' di più dal dal tartufo e avvolge però completamente il mondo dei cani da tartufo e non e quindi abbiamo intenzione di organizzare una serie di incontri quindi una serie di di stage che per sull'allevamento del cane che possono essere interessanti sia per per chi fa questo di mestiere quindi per allevatore che vogliono approfondire determinati determinate tematiche sia per persone semplicemente interessate all'argomento che vogliono allargare il proprio bagaglio culturale ma anche perché no a chi abbia semplicemente intenzione di andare a far accoppiare i propri cani e farlo con cognizione di causa e nella maniera corretta dalla scelta dei soggetti riproduttori fino a poi al parto e al e a quello che ne succederà ma sì inventiamo i verbi oggi Dario vuoi iniziare a introdurre un po' questo argomento vuoi dire due parole anche tu sulla Dertona Trafol Academy prima di mettere i piedi nel piatto come ti piace dire di solito non è qualcosa che mi piace dire di solito ma comunque due parole due piedi nel piatto ce li metto molto volentieri quindi come dicevi tu appunto la nostra grande piccola esperienza è cresciuta la Dertona Trafol Academy è nata e in questi mesi si è evoluta si è sviluppata abbiamo elaborato dei sistemi di comunicazione sempre come dire più efficaci e efficienti e tra l'altro l'anno ultimo gli amici di Trafol for Dummies hanno visto eh il l'articolo carino appunto uscito sul piccolo quindi cresciamo anche a livello di eh conoscenza sul territorio e questo fa sempre molto piacere quindi nel senso il nostro lavoro e il nostro impegno eh diciamo inizia ad avere i suoi frutti anche come dire per il mondo eh della carta stampata che ci circonda quindi piccolo un bel quotidiano eh della provincia Alessandra eh che viene visto un po' eh sia sia in Piemonte sia in Liguria e quindi siamo molto contenti di questo e del fatto che eh veniamo sempre più presi in considerazione anche con eh dagli enti dalla carta stampata insomma dal mondo eh anche che conta che ci circonda quindi ehm gli stagio stanno andando molto bene siamo tutti molto contenti le persone sono contenti si parlava appunto stamattina con te che tante persone poi eh vogliono cioè quindi non si fermano lì ma decidono di approfondire i discorsi che quindi veramente ehm quei giorni di approfondimento con Luigi e con noi eh sono veramente un un buon là un buon lasciapassare per approfondire poi discorso con con il proprio cane che quindi in qualche maniera non sono fini a se stessi ma sono veramente il eh il preludio per un sequel sempre più avvincente eh specialmente se fatto sulle terre del tona quindi nel senso che siamo molto contenti di questo come buoni maestri tra virgolette se possiamo dire così o meglio aiutanti del grande maestro Luigi Ibacco ehm siamo molto contenti di dare ovviamente oltre a informazione una vera formazione e Dario mi sono dimenticato di dirlo prima per per gli esteri perché si chiama Dertona Traffo l'Accademy cosa significa Dertona? Magari non è all'uopo di tutti conoscere codeste cose. Questi come direbbero come direbbero a Genova ad esempio no Dertona il nome il nome il vecchio nome latino della cittadina di Dertona che fondamentalmente un po' la capofiglia no? È la città la cittadina più grande delle cinque valli che insistono sul nostro territorio quindi le cinque valli che formano il territorio delle terre di Dertona quindi ehm che sono praticamente quelle eh che noi viviamo e dove i nostri i nostri tartufi vengono cavati tartufi di altissima qualità eh che molto spesso vengono battuti nelle aste dei più importanti centri al momento i più importanti centri eh del tartufo italiano e non e e quindi in pratica è tutta un'ambientazione molto eh molto concreta siamo fondamentalmente nel cuore pulsante delle terre del tartufo delle migliori terre del tartufo della regione Piemonte eh per cui ecco Dertona vuol dire quello Academy ovviamente eh nel senso la trasmigrazione inglese di un termine eh classico quindi dell'accademia greca quindi fondamentalmente noi vogliamo fare formazione vogliamo aiutare la gente a capire comprendere eh informarsi e quindi fondamentalmente sulla base di questo eh tutti i nostri percorsi i nostri pensieri ehm si integrano in maniera perfetta su quelle che sono poi le saranno le necessità dei nostri amici tra For For Dummies e quindi un'idea che ho sempre avuto che ma che è stata poi appoggiata appunto in maniera recentemente da Davide è quella di di usare le nostre competenze per creare formazione anche su un aspetto eh che mi compete personalmente quindi sull'aiutare eh le persone che vuole essere ci sono tanti amatori a capire meglio eh quali sono le dinamiche e il mondo che si nasconde dietro all'allevamento dei cani perché ci sono eh dei eh balzelli e fardelli eh facilmente individuabili ma a volte molto difficilmente affrontabili e quindi il nostro obiettivo è quello di dare eventualmente mh e prossimamente eh delle informazioni specifiche e molto concrete su come affrontare determinate dinamiche dell'allevamento del cane non per forza dell'artufo ma in generale per coloro che fossero interessati ad approfondire questo e magari ecco a diventare eh nostri colleghi miei colleghi eh a tutto fondo devo mettere in caricamento il cellulare bene quindi abbiamo fatto una piccola digressione su cos'è la Dertona Trafol Academy abbiamo un sito molto complesso che stiamo finendo di realizzare so che qualcuno ci è già arrivato sopra eh l'ha anche utilizzato per iscriversi a uno stage l'altro ieri c'è stato un iscritto proveniente dal 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 sito e non l'abbiamo ancora pubblicizzato stiamo aspettando un pochino di avere tutto in ordine per poi darvi tutti i riferimenti del del progetto che comprende sia la Dertona Trafol Academy ma anche altri aspetti che che riguardano che riguardano il tartufo e differenti collaborazioni per ora abbiamo iniziato con appunto con l'Academy e a breve inizieremo poi principalmente da settembre in poi con la prossima stagione a disvelare tutti i vari pezzetti di questo grande puzzle che si sta costruendo innanzitutto eh grazie a tutte le persone che 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 ci seguono comunque noi stiamo producendo dei contenuti ma senza tutta la grande attenzione anche l'affetto e il sostegno eh sia morale ma anche di contributi che stiamo ricevendo ci stanno dando la possibilità di proseguire nella produzione di questi contenuti che ci hanno fatto venire voglia di appunto poter dare ulteriori skill al nostro operato e ulteriori eh chiamiamoli servizi ulteriori possibilità a chi a chi ci segue Dario eh nella presentazione della serata mi dicevo anche che potresti c'è c'hai un folletto dietro eh sì 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 è delle dimensioni un folletto ma ma si nasconde male ah ok ok sembrava un folletto mio figlio va bene quindi Dario un po' eh per andare a iniziare a disvelare i possibili argomenti di di questo futuro stage cosa cosa ci dici? Mettiamo in carica il cellulare un secondo solo o là ci siamo penso sì ci siamo allora gli argomenti dello stage allora come appunto detto sono sono differenti le le problematiche che una persona che si appassiona appunto di allevamento eh dovrà dovrà affrontare eh le problematiche eh in prima istanza che ci mettono più paura no? Di per affrontare questa eh questo 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 mondo che mettono le persone che mi chiedono eh più insomma timore sono le regole le regole base che in qualche maniera limitano eh la detenzione la vendita la commercializzazione dei cani oltre ovviamente alla eh a quella che in realtà eh la prima problematica è quella di far riprodurre i cani in tranquillità ma normalmente fa molto più paura il fatto di ok io avrò una cucciolata poi a chi la do come la do perché la do eh in realtà tutto è molto fattibile ci sono delle regole stringenti ma tutte vengono affrontate affrontate con tranquillità e con la giusta consapevolezza sono tutti problemi eh diciamo risolvibili. Il mondo dell'allevamento eh eh ha varie sfaccettature ha una sfaccettatura come dire eh puramente amatoriale a eh una sfaccettatura professionale e a una terra a una via di mezzo a una a una terra di mezzo in cui molto molte molti attori di questo mondo eh bazzicano e vivono. Terra di mezzo che tendenzialmente è la più la più rischiosa sotto tanti punti di vista perché in qualche maniera non ti dà la certezza di avere tutto in ordine per poter fare la tua selezione per poter vivere eventualmente di questo lavoro ma allo stesso tempo ti mette in qualche maniera alla mercè di qualunque attore del eh del mondo sanitario oppure ehm contabile che potrebbe in qualche maniera eh metterti in difficoltà per adempimenti che non hai portato ovviamente al giusto fine quindi ci sono una serie di regole e balzelli che ovviamente sono regionalmente differenti e che andrebbero affrontati pian piano con l'aiuto anche di ulteriori professionisti magistrati e associazioni di categoria quindi quello che dicevo e eh dicevo ovviamente mi preme anche sottolineare in questa pagina che abbiamo un'associazione di categoria eh che ehm in qualche maniera tutela l'allevatore professionale che poi fondamentalmente è all'interno del mondo agricolo eh e che è interessata ovviamente a supportare tutte quelle persone che allevano in maniera amatoriale che vogliono in maniera completa affacciarsi al mondo del professionismo. Cos'è il mondo? Ricordiamo che da un punto di vista normativo l'allevatore è un agricoltore. L'allevatore è un coltivatore eretto, è un allevatore quindi l'allevatore eh fa e eh alleva eh animali quindi i cani sono animali anche se ovviamente molto spesso vengono umanizzati però eh da un punto di vista normativo eh i cani sono animali quindi l'allevatore è nel macro mondo, nella macro area del eh diciamo dell'agricoltura. Eh detto questo, detto questo, tutti gli strumenti che possono essere saldati sono semplicemente appunto di supporto a coloro che vogliono vogliano eh migliorare eh tutte quelle dinamiche allevatoriali che ovviamente vengono sciorinate durante o la loro progresso esperienza da amatoriali o la loro non esperienza come allevatori o come semplici in qualche maniera possessori di una coppia riproduttrice perché già se si è possessore di una coppia riproduttrice tra legge italiana e si fa una cucciolata e si è allevatori quindi eh diciamo che eh l'ENCI, l'ente nazionale decino fidetti a Diana tutela tutti coloro che possiedono cani e tutti coloro che fondamentalmente contribuiscono a diffusione del cane in Italia. Poi oltre una certa soglia si diventa allevatori amatoriali, oltre una soglia ancora come dire spinta più in là e quindi nel tempo ripetuta si deve per forza di cose dichiararsi allevatori professionisti. Si può fare sia in maniera esclusiva sia in maniera eh connessa ad altre attività. Quindi ci sono appunto dei limiti che vanno appresi e ovviamente vanno individuate criticità del caso per capire quella che è la forma di allevamento che meglio compa le nostre esigenze. Per capirci Dario quali sono questi limiti? Cioè questi step che ci fanno passare da semplice detentore di coppia riproduttorice a agricola, l'allevatore amatoriale ad altri allevatore professionale. Allora il problema il problema in questo mondo è la c'è tanto mertà, c'è tanto mertà e c'è tanta eh voglia non voglia di fare o di non fare perché si ha paura e si hanno poche conoscenze ma fondamentalmente il mondo amatoriale eh in Italia vive eh come dire eh vive eh un po' sulle nuvole. È un termine molto semplice e banale per far capire che tanti allevatori amatoriali formalmente non lo sarebbero perché l'essere amatoriale eh in buona sostanza eh non è chi fa eh come la maggior parte delle persone possano pensare chi ama i propri cani in maniera eh irrazionale oppure eh che viene appunto visto in contraposizione a chi lo fa fondamentalmente per selezioni scientifiche quindi anche come professione ma è colui che in maniera eh costante negli anni eh ripetuta quindi non una non una tantum eh possiede dei cani più di cinque fattrici e fa delle cucciolate quindi chi fa una cucciolate una volta all'anno tendenzialmente è un allevatore quasi non più amatoriale poi ci sono limiti ulteriori per diventare professionista a tutto a tutto a tutto tondo ma chi si mantiene amatoriale non è esentato da dover dichiarare eh il suo fatturato in buona sostanza come attività extra da di allevatore quindi molto spesso questa cosa mette tante persone a disagio che hanno paura nel vendere cani e lo fa e alimentano ovviamente il mercato del nero aumenta alimentando il mercato del nero non c'è una forte contrapposizione con l'importazione all'est ecco perché continua continua l'import smoderato smodato all'est all'est Europa perché fondamentalmente fondamentalmente il nostro corpo allevatoriale italiano la nostra massa allevatoriale italiana per lo più in qualche maniera eh non è in grado di supportare a livello legale un'importazione di cuccioli all'est eh in maniera in maniera opportuna semplicemente perché non può dimostrare quello che eh dimostrando eh avrebbe poi in qualche maniera conseguenze esso stesso quindi un quadro normativo e poi invece da un punto di vista pratico tipo io c'ho una coppia riproduttrice vengo a fare questo stage perché qual è il cosa mi porta a casa anche poi sicuramente se uno fa una cucciolata probabilmente qualche cane lo vorrà anche vendere perché ma appunto un conto se ne fa uno un conto se è una coppia riproduttrice quindi Dario aspetta che ti rischio di parlare quando grazie vai dicevo punto scusami ehm niente hai una coppia riproduttrice sicuramente non hai hai già fatto una scelta a monte quello che puoi imparare è anche il cosa scegliere quando scegli una coppia riproduttrice cosa fare a livello di psicologia per affinché quella coppia riproduttrice eh ti dia dei cani con determinate caratteristiche se puoi farlo a monte se puoi utilizzare i tuoi cani o se no quindi quello che cercherò di insegnare intanto a mantenere i cani in maniera appunto più naturale possibili per perché il compito dell'allevatore qual è cioè intanto io ho sempre detto guarda quando la prima volta che sono andato a fare il test d'ingresso all'università in facoltà di pedaglia a Milano eh c'era anche la presentazione di scienze tecnologie di produzione animali e in buona sostanza quello che dissero a noi matricole quindi parliamo di tantissimi anni fa venti anni fa forse ventidue anni fa eh e mi rimase ovviamente abbastanza impresso nel cranio è gli allevatori eh fanno di tutto affinché i cani non si ammalino i veterinari servono a curare i cani però il ruolo dell'allevatore è veramente centrale e centrale quindi noi dobbiamo fare di tutto per avere eh cani visto che noi siamo una pedina importante nella riproduzione dei cani visto che non lasciamo i cani riprodurre riprodurre se stessi a prescindere appunto dalle scelte allevatoriali eh dobbiamo fare in modo che il cliente abbia meno problemi possibili e che affronti eh il veterinario a parte appunto per quelle visite rutinarie di medicina preventiva il meno possibile quindi il ruolo dell'allevatore è centrale e io lavoro da anni sulla professionalizzazione del ruolo dell'allevatore nell'immaginario comune l'allevatore non è soltanto quel deve essere colui il punto di ferimento per chiunque appunto acquisti un cane e deve dare valore aggiunto con la sua esperienza all'esperienza di acquisto del cane quindi non è assolutamente banale purtroppo vi è una superficialità esagerata ed esasperata nel nella mia nella mia professione proprio perché eh non c'è consapevolezza della responsabilità che si ha è molto facile avere una cucciolata non è così 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 difficile è molto è facile banalmente facile perché per fortuna i cani si riproducono normalmente con non tanta difficoltà i proviene i problemi vengono sempre dopo a posteriore bisogna saper risolvere i problemi quindi acquisire una consapevolezza importante nella gestione nel nell'inizio del progetto di cucciolata è veramente veramente importante e quindi a parte un una questione normativa e quindi a parte l'idea no di poter allevare e di poter fare dell'allevamento della propria passione anche una professione eh l'idea di farlo in maniera vera reale ed acquisire gli strumenti tali da poterci aiutare appunto nella realizzazione di questa nostra idea e progetto di riproduzione dei cani penso che sia veramente veramente importante quindi questo è quello che vorremmo fare avrendoci ovviamente il supporto oltre che mio magari anche di altri eh esperti e consulenti e dare poi eventualmente una una formazione continua per la vita appunto eh per questi per per coloro che abbrà decidesso di abbracciare il nostro oggetto il progetto del fornato l'academy. Allora Dario abbiamo parlato in questo momento di competenze che si possono avere o acquisire per chi volesse andare a intraprendere questo questo percorso e sicuramente questo stagio che andremo a organizzare eh andrà a sanare queste o questo gap almeno in parte di di competenze l'altra domanda però che viene spontanea va bene le le competenze le posso acquisire ma eh da un punto di vista logistico nel senso io posso acquisire tutto però vivo in un monolocale a Milano l'allevamento non lo posso fare questo è ovvio però eh quali sono i i requisiti gli spazi che uno deve avere a disposizione per poter metter su un allevamento di proprio a livello logistico quali sono gli altri gli altre necessità ai nei vari step nei vari step cioè se sono una coppia riproduttrice voglio fare un allevamento materiale voglio avere un allevamento professionale quindi terreni normative vai vai dico banalmente le regole abbiamo perso Dario nel clou del discorso chissà se gli si è surriscaldato il telefono come l'altra sera in effetti qui adesso sono le nove e mezza e ci sono trentuno trentuno gradi quindi oggi è particolarmente caldo lui sta giù in pianura quindi la temperatura è ancora più alta nel frattempo che capiamo se Dario torna o meno per proseguire la diretta lo chiedere a qualcuno se a qualcuno in generale eh se qualcuno ha delle domande di iniziare a un po' a scriverle qua qua in chat nell'attesa che Dario rimetta in sesto il suo il suo set altrimenti purtroppo mi sa che andremo verso una chiusura anticipata della diretta di stasera confido comunque nel ritorno di nel ritorio di Dario gli diamo qualche minuto intanto scusate eh se mi vedete distratto che sto provando a scrivergli in privato per vedere se è successo qualcosa ma credo che non lega neanche i messaggi visto che probabilmente il suo telefono è defunto ah ok infatti sta provando a ricollegarsi da un altro device vediamo un po' dovrebbe esserci a breve gli ho rimandato le credenziali per per accedere intanto guardo se ci sono state qualche se c'è stata qualche domanda no niente siete in ascolto ma silenti stasera tanto Arianna Galasso ciao Francesco Cicare ciao Marco un due tre quattro ciao maggior papa ciao ti avevo già salutato ti risaluto adesso dovrebbe arrivare di nuovo Dario vediamo qui vediamo qui vediamo ancora qualche secondo sta cambiando device dal quale connettersi eccolo lo vedo è arrivato eh nuovamente ha fatto lo stesso scherzo d'altra volta è andato in ricoveri si è scaldato bene dai dai riprendiamo dovevamo lasciarlo no ti dicevo che banalmente le regole non sono così stringenti nel senso che eh non lo so ma non solo scusami non in solo in termini di regola anche proprio in termini di esigenze a presci cioè oltre alle regole cosa ci serve come sia come sia totalmente varia la situazione dipende dalla taglia del cane dall'esigenza del cane dallo spazio di cui ha bisogno dell'attenzione di cui ha bisogno c'è realtà ogni razza il cane essendo come sia è stato il plasmato su diverse caratteristiche sia morfologiche caratteriali ha esigenze totalmente diverse da un punto di vista gestionale anche la riproduzione se noi volessimo paragonare eh un chihuahua a un carlino a un bulldog inglese cani molto complicati da un punto di vista riproduttivo anche come parto rispetto a un cane rustico come l'agotto o il cerneco e l'etna per esempio avremmo delle situazioni totalmente diverse quindi il fatto di scegliere una razza per allevare sicuramente ti mette eh tipone di fronte alle scelte che devi fare eh che sono molto specifiche poi la competenza dell'allevare il cane che è una specie eh diciamo eh ha una base un'impronta abbastanza abbastanza solida però puoi capire che l'allevamento di razze diverse presuppone eh dei comportamenti e delle strategie differenti dalla stessa socializzazione ci sono i cani che non hanno bisogno di socializzazione perché lo sono a prescindere geneticamente portati ad avere un ottimo rapporto eh di confidenza appunto di attaccamento al padrone e delle razze per cui hai assolutamente bisogno di avere un contatto diretto e costante altrimenti puoi avere problemi di socialità con l'uomo ci sono razze che appunto delle cui madri ti puoi fidare quasi al cento per cento ci sono razze delle cui madri non ti puoi affidare per nulla al mondo io la mia domanda era c'ho la villetta col giardino sì posso intraprendere un'avventura di questo tipo o mi serve puoi assolutamente farlo dipende qual è il tuo progetto puoi assolutamente farlo a livello amatoriale e puoi assolutamente farlo eh senza senza problemi ci sono ovviamente delle richieste di fare le due asla di di competenza eh da regione a livello eh regionale cambiano quelle che sono praticamente linee guida ogni regione ogni asla di competenza veterinaria applica linee guida differenti una delle più eh come dire di maglie larghe mettiamo così a livello amatoriale a livello amatoriale è l'Emilia Romagna che ti consente la detenzione di cioè probabilmente eh come dire la storicità culturale allevatoriale eh delle linee a Romagna ha portato appunto anche a diri a di eh non dirigere a ehm a creare in pratica delle linee avatoriali abbastanza di maglia larga non c'è un limite vero di cani da detenere eh per l'allevamento per una struttura e per cui anche le strutture c'è o meglio se tu vuoi fare elevatore amatoriale e puoi tranquillamente avere dieci cani senza avere una struttura certificata va da sé che comunque poi eh quello che ti dice appunto eh a livello sanitario quindi il il permesso sanitario che tu hai poi mal si concilia con eventuali controlli controlli fiscali che devi ovviamente eh cioè perché hai delle delle regole e degli obblighi a cui che devi ottemperare appunto quindi non molto spesso in Italia c'è l'idea che eh tutti i cani i cani la maggior parte dei cani vengono venuti senza certificazione quindi senza un un riscontro no una una ricevuta eh fondamentalmente questa non deve non dovrebbe essere la normalità però in qualche maniera è un po' un uso che in maniera come dire molto super superficiale si fa rischiando però a quanto pare la maggior parte dei clienti italiani non si aspettano che il can sono molto sorpresi quando in qualche maniera io fatturo i miei cani ma questa è la normalità delle cose c'è sempre tanta sorpresa ti assicuro che il 90% delle persone non si aspettano eh che il cane vada fatturato con un bene c'è ad esempio una fatturazione al 22% quindi eh perché si deve pagare è sempre un bene un bene che appunto noi tutti i contribuenti dobbiamo in qualche maniera ottemperare eh nei confronti dello Stato quindi eh ci sono tantissime possibilità tantissime possibilità eh io eh sono partito allevando con un progetto ma sicuramente non ero al corrente di tutte quei di quei tutti quegli ostacoli che mi sarebbero posti innanzi per eh creare la mia attività la mia attività molto grande eh non progettata così grande ma in qualche maniera cresciuta sia per ovviamente eh forte passione ma anche fondamentalmente per ehm porre rimedio a determinate spese che mi erano in buona sostanza imposte dal sistema sanitario nazionale e che in qualche maniera eh mi imponeva di creare delle strutture atte eh e molto specifiche quindi diciamo che eh nella mia scelta personale il dover creare un eh una struttura quindi infermierie eh dedicate spogliatoi eh locali per la preparazione mangime per cinque cani non avrebbe avuto senso in qualche maniera per quanto mi riguardava in quel momento creare tutta una mega struttura per soltanto cinque cani o o sei frattrici quelle erano in qualche maniera le esigenze che io avevo e e quindi mi hanno portato a crescere anche il numero di cani perché ovviamente eh la mia idea di selezione era ovviamente già ben chiara e e quindi l'allevamento è cresciuto con difficoltà con passione insomma e oggi penso di essere eh di avere un le spalle abbastanza larghe per poter trasmettere la mia conoscenza per poter aiutare le persone a portare avanti il proprio progetto il proprio sogno eh ci sono tantissime strade tantissime strade ma ad oggi il problema che io ho affrontato è proprio non trovare mai un interlocutore con la giusta esperienza che mi potesse aiutare nel percorso ovviamente pluridecennale che ho dovuto affrontare quindi io penso che oggi chiunque volesse affrontare appunto un discorso allevatoriale avrebbe diciamo sicuramente tante possibilità io penso a un giovane un ragazzo un ragazzo con eh come dire eh appassionato e che sogna eh di vivere appunto per i prossimi anni accanto ai sui cani a producane diciamo che questa è una strada sicuramente che eh ti porta ad avere ehm tante 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 soddisfazioni ma devi essere consapevole di tutte le problematiche e la fatica realizzativa che tu devi avere ovviamente sempre una scelta una scelta imprenditoriale può essere una scelta di passione una scelta fatta col cuore una scelta fatta con la testa una scelta fatta col col popò ma comunque sempre una scelta e avere gli strumenti per poter scegliere secondo me è un importante valore aggiunto che io personalmente avrei potuto avere eh soltanto quindici anni fa domanda nazional popolare sull'argomento visto che non le fate voglia le faccio io allora lasciamo perdere tutta la questione di pedigree che ne abbiamo già parlato in più in più occasione eh restiamo dal punto di vista fiscale che avevi accennato io ho una coppia di di cani li faccio ho ho una fattrice e organizzo una monta con chi ha una un maschio e una volta che io ho la cucciolata per fare le cose come si deve appunto tu mi dicevi che le persone in Italia non sono abituate a a vedersi fatturare un cane se io appunto non ho non ho un allevamento malattuale semplicemente una femmina la faccio accoppiare mi fa nove cuccioli di razza col pedigree appunto la questione pedigree abbiamo già trattato tante volte da un punto di vista fiscale cosa faccio io li metto in vendita tramite un canale x nel momento in cui cosa come mi comporto no no tu puoi metterli ovviamente senza di risposta senza problemi se non sei ovviamente un allevatore quello che devi fare non è così complesso ecco nel senso che fondamentalmente banalmente devi fare una ricevuta e devi dimostrare in buona sostanza che le spese che tu hai avuto per sostenere la cucciolata sono perlomeno il pari del guadagno che tu hai avuto dalla vendita di cuccioli ti faccio un esempio se tu dimostri che nei due anni precedenti hai speso per dire 2 3 barra 4 mila euro tra l'acquisto dei cani che normalmente non avrai fatturato o meglio non hai acquistato con fattura tra l'acquisto del mangime tra le cure mediche veterinarie e veterinarie stesse molto spesso omettono di fare ritenuta al conto insomma comunque quando tu dimostri che hai compiuto delle spese per quei cani e per la cucciola da stessa che quindi vendendoli hai in buona sostanza incassato la stessa cifra delle due spese o tendenzialmente meno tu fondamentalmente a fine anno non devi ovviamente versare nulla i contributi ma se ma se tu fondamentalmente non è niente che attesta le spese che tu hai avuto oppure se semplicemente hai avuto un guadagno dalla vendita dei cuccioli se tu hai avuto un guadagno da vendita dei cuccioli devi pagare poi una percentuale sul guadagno che tu hai avuto il guadagno è tassato e come si fa questa cosa lo devi dichiarare su 7,30 come altri redditi devi inserire anche se non sei allevatore ed è tassato che hai incassato questi soldi ci pagherai su sulle tasse e al momento cosa rilasci una una sempre ricevuta ovviamente tu devi rilasciare una sempre ricevuta compri da due fetti e poi basta una semplice ricevuta non avendo partita iva una ricevuta in carta semplice che poi andrai a dichiarare come altri redditi io avevo inizialmente il blocchetto quello buffetti però ovviamente va da sé che se tu riesci in qualche maniera a dimostrare che hai avuto delle spese non devi ovviamente dimostrare niente però come dire capisci come è sottile e vi assicuro che io ho avuto colleghi o pseudo colleghi che hanno avuto controlli e hanno dovuto affrontare i problemi in maniera pesante quindi nel senso senza voler allarmare nessuno ovviamente si deve sapere che non è un'azione normale ecco quindi nel senso ovviamente uno pensa a una cucciolata nessuno non devo dar conto a nessuno di quanto io faccio purtroppo non è così quindi ovviamente normalmente la legge non contempla l'ignoranza e quindi penso che sia importante dire questo lo dico sempre tra i miei amici ovvio che la maggior parte delle persone non verranno indagate perché vendono una cucciolata però formalmente ovviamente se questa cucciolata si proteine di anni per 5, 6, 10, 20 anni poi sarà difficile dire no non l'ho fatto ovviamente perché i cani sono tutti tracciati con regolare microchip a norma di legge non si possono scegliere cani anche se si regalano senza l'apposito microchip quindi in qualche maniera la legge parla chiaro le regole parlano chiaro poiché si riescono o si vogliono eludere è un altro paio di maniche ma in realtà fare le cose per bene in maniera seria cioè non è che deve essere serio vuol dire fare di più fondamentalmente fai quello che la legge ti dice di fare noi tra l'altro cerchiamo anche di dare quel tipo di indicazione perché poi viviamo in un paese dove l'arte di arrangiarsi è già abbastanza diffusa e non c'è bisogno di sostenerla e consigliarla il problema della cinofilia italiana è che pur essendo eccellente sotto tantissimi punti di vista perché c'è una competenza in una fetta della popolazione avatoriale molto importante a livello tecnico vi è veramente tanta sommarietà e in qualche maniera non so se mediata da una dose veramente di voler essere superficiali molto molto elevata quindi in qualche maniera la cinofilia italiana vacilla e si muove su un filo molto molto sottile tra la legalità e l'illegalità purtroppo allora ah ecco qua Arianna Galasso ci fa una domanda intanto grazie Angelo Papa ci dice state facendo un attimo lavoro di informazione generale ma nessuno l'ha fatto prima bravissimi grazie Angelo ciao Enrico benvenuto ciao ciao Antonio ciao Arianna Galasso ciao quali documenti del cuccioli bisogna pretendere dall'allevamento compro un cane cosa mi danno insieme al cane cosa devono darmi cosa dovrebbero darmi insieme al cane allora l'obbligo l'obbligo è ovviamente a livello di legge è che l'allevatore ti dia il passaggio di proprietà quindi fondamentalmente c'è un foglio in cui si attesta che il cane è microcippato con numero seriale numero B B B B B B proprietario l'allevatore tal dei tali inoculato dal veterinario tal dei tali passa a te quel foglio è fondamentalmente importante affinché tu possa trasmettere al tuo ente sanitario la proprietà del tuo cane un foglio di inoculazione microcipp in cui in buona sostanza il veterinario attesta che quel cane di quella razza ed è nato quel tal giorno ed è stato inoculato il tal giorno quelli sono i due documenti fondamentali che è norma e legge l'allevatore deve dare poi ovviamente il libretto sanitario è qualcosa che è buona norma a ricevere penso che ad oggi io non ho mai visto nessun cane andare via da un allevamento senza il libretto sanitario ma la legge non te lo impone questo va detto la legge non te lo impone ma è buona norma che l'allevatore ti dia appunto un promemoria agli interventi di medicina preventiva fatti ai cuccioli che possono essere appunto riportati tutti gli interventi vaccinali o di sferminazioni ma comunque io ad esempio gli interventi di sferminazione facendoli in un allevamento non facendoli fare al veterinario ti dico a voce semplicemente do tutto quello che c'è da sapere dico tutto che c'è da sapere su quella che la profilassi a posteriori quindi questo è fondamentale poi quando compri un cane ovviamente se compri il cane di razza devi pretendere ovviamente che ti venga poi lasciato il pedigree perché il cane è definito di razza lì quando c'è un certificato genealogico altrimenti dice si truffa se tu prendi un cane di una determinata razza senza pedigree quel cane non è di quella razza e quindi formalmente non può esserti venduto o perlomeno ti può esserti venduto con dicitura meticcio non altro quindi diciamo che l'attestazione della razza viene data non da quello che dichiaro il veterinario sul foglio di passaggio e sul libretto sanitario ma semplicemente da una dichiarazione di conformità del pedigree che in buona sostanza è la trascrizione dei dati degli ascendenti del cane che sono sullo statbook nazionale dell'Enci su un foglietto marroncino per lo più delle volte che si chiama pedigree in pratica e poi quello che deve dare ovviamente una ricevuta dovrebbe darti una ricevuta o una fattura di vendita noi diamo anche un contratto di vendita che in buona sostanza dà garanzie all'acquirente su quello che va a comprare ma quelle sono diciamo esperienze virtuose che non puoi avere da tutti perché come dire è un po' lasciato a quella che è la serietà dell'allevatore vedete anche una forma di garanzia mi sembra giusto Dario? sì sì noi ho detto però la forma di garanzia in qualche maniera è molto cioè noi facciamo firmare un contratto in cui in buona sostanza garantiamo determinate caratteristiche dei nostri cani e ci in qualche maniera prendiamo determinati diritti molto meno rispetto ai doveri ovviamente l'allevatore abbiano rispetto a determinate forme di maltrattamento che come dire il cliente può adoperare nei confronti del cane che quindi ovviamente noi ce ne guardiamo bene nel senso evitiamo la detenzione del cane alla catena ci tuteliamo a tutte quelle forme di maltrattamento che possono essere messi in atto però per il resto nel nostro contratto ovviamente garantiamo il possesso del peregrillo il fatto che il cane sia stato allevato perseguendo tutti i migliori standard di razza l'alta genealogia i controlli sanitari le garanzie sulle malattie però questo è un comportamento virtuoso che è dato appunto all'allevatore che decide di avere questo rapporto con il cliente ma non è obbligato a farlo poi ovviamente il cliente è tutelato a prescindere da forme regionali o provinciali che nelle varie camere di commercio si chiamano gli usi quindi gli usi progressi nel tempo che le camere di commercio sono iscritte che in qualche maniera tutelano tutelano l'acquirente ma puoi capire che se non viene mai rilasciato nessun documento che attesti la vendita del cane fondamentalmente l'acquirente può richiedere ben poco cioè se io compro un cane e da nessuna parte c'è scritto che io ho comprato quel cane senza nessun documento fiscale cosa posso pretendere niente bene allora c'è Claudio Fochetti che si ostina a commentare Claudio Fochetti sembra un commento tautologico vabbè lascio stare e Dario non ci sono altre domande tu volevi dire qualcos'altro rispetto se non andiamo verso la chiusura di questa di questa diretta abbiamo semplicemente voluto questa volta appunto eravamo entusiasti di questa idea che abbiamo avuto quindi oggi diciamo che non ci siamo approfonditi non abbiamo approfondito argomenti che a me piacciono un po' più tecnici ecco l'altro giorno parlavamo con te del fatto che io non riesco a esagerare nel senso nell'approfondire argomenti che magari non mi sembrano talmente specialistici e quindi fondamentalmente abbiamo detto perché non iniziamo a creare un qualcosa che dia veramente formazione all'interno del tono Traffalo Academy questo era appunto un'idea quindi vogliamo avere anche un po' ci piacerebbe avere dopo questa presentazione dei feedback su quello che appunto se c'è qualcuno di voi già interessato a questo argomento e se magari può chiederci di approfondire ulteriori regolamenti ma direi che è qualcosa che assolutamente è nostra intenzione fare a prescindere perché pensiamo che ci siamo Marianna Galasso ci ciao Chiara Marchione ve la puoi vedere indifferita Marianna Galasso dice l'ASCL credo venga a fare un sopralluogo sul posto dove vorremmo installare l'allevamento cosa richiede per dare il permesso tipo fossa biologica polizia o spazi determinati dipende fondamentalmente da che regione tu qual è la regione le siedi però non solo viene l'ASL a in qualche maniera fare dei controlli darti il parere il parere positivo su quello che è il tuo progetto poi il tuo progetto deve essere ovviamente presentato in comune in comune residenza devi ovviamente questo progetto deve essere realizzato l'ASA deve rifare in buona sostanza il sopralluogo e dare il permesso positivo alla struttura e quindi l'autorizzazione sanitaria l'autorizzazione sanitaria è la punta è l'obiettivo che ogni elevatore dovrebbe avere per allevare in tranquillità e per avere l'autorizzazione ad allevare quindi ci vuole un'autorizzazione rilasciata dal sindaco dall'autorità come dire massima sanitaria del comune di residenza che viene rilasciata a sua volta dopo parere positivo sia tecnico che dell'ASL di pertinenza però dipende sempre dalla regione in cui sei mediamente i must i capisaldi sono che tu debba avere ovviamente gli spazi dai 4 agli 8 minimi per ogni cane elevato su superfici ovviamente lavabili che abbiano delle canaline di scolo per la fecalizzazione per evitare la fecalizzazione dei spazi che portino ad un imof quindi una fossa biologica con ovviamente una dispersione che può essere fatto con agrofiltrazione o con altri sistemi oppure con delle forne abbonamento tra virgolette agli autospeurghi della zona però ovviamente deve essere tutto certificato una volta avuta questa autorizzazione come dire sanitaria ti danno il permesso di allevare però ovviamente gli step sono numerosi sono tanti ci sono ovviamente delle brochure che ti indicano passo per passo appunto quelli che sono i tuoi tempimenti e l'ASL poi ti verrà a controllare ogni due mesi per vedere appunto lo stato di salute dei tuoi cani il tuo corretto comportamento la tua corretta somministrazione di cibo il tuo corretto addentimento sul registro di carico e scarico dei cani che entrano in scuola all'allevamento ovviamente nell'allevamento non puoi fare pensione non puoi ovviamente introdurre cani di altri quindi hai tanti vincoli poi parla pensione è tutt'altro discorso ovviamente perché non è attività agricola ma è attività pseudo commerciale mettiamola così Allora ci sono tre domande due secondo me le possiamo accorpare quella di Marco Cabella e di Enrico Salvadori sostanzialmente Marco Cabella ci chiede quali sono i criteri di accoppiamento tra cani di pari razza a cui è prevista la prova di lavoro e Enrico invece ci dice a che età un cucciolo deve fare tutti i controlli per poterlo far far accoppiare l'altra domanda era quindi te le faccio tutte e due così poi vai più tranquillo se il cane dopo l'acquisto emergono delle malformazioni tipo cardiache l'acquirente può restituire il cane e pretenderne uno sano? Allora partiamo con l'ultima ci sono delle patologie che sono in qualche maniera date come patologie la cui prevenzione viene richiesta un po' non dallo standard di razza ma dal club proprio perché quando si accerta ed attesta che quella determinata razza ha un alto tasso di malformazione in questo caso cardiaca la malformazione cardiaca è una malformazione molto seria e l'idea di massima l'acquirente potrebbe chiedere la sostituzione del cane dove praticamente la malattia e la malformazione compromettesse in maniera stabile e inequivocabile lo stato di salute del cane perché se tu hai comprato il cane specialmente per fare un'attività lavorativa e il cane non la fa diciamo che ti è stato venduto tra virgolette un bene scusami questa parola ma il cane è vissuto con un bene non conforme a quella che è la sua attività quindi assolutamente puoi chiederlo puoi chiedere una riduzione del prezzo di acquisto se tu vuoi tenere il cane questa norma e legge io onestamente non ho mai richiesto la sostituzione del cane o sempre in qualche maniera mi sono accordato con rimborsi totali o parziali ma io onestamente non ho mai avuto problemi di carattere cardiaco per fortuna nella gott è veramente assente questo problema almeno nei miei la gott non mi è mai successo però ho avuto problemi di carattere ortopedico e ci siamo sempre accordati nel limite ovviamente della disponibilità mia ma non ho mai avuto problemi in questo senso ecco mettiamolo così però si può richiedere un rimborsco però dico sempre se si hanno ovviamente ovviamente se si ha a che fare con persone come dire chiare e sincere le persone in qualche maniera ti verranno incontro lì dove tu non hai veramente nessun documento d'acquisto insomma diventa anche difficile pretendere una sostituzione del cane o pretendere un qualcosa ovviamente l'allevatore a sé rischia a monte il fatto che tu possa segnalare questo abuso di vendita da parte sua quindi ecco perché dico fate sempre attenzione noi lavoriamo sempre appunto nella chiarezza proprio perché per evitare appunto con questa massa critica di cani che vengono elevati i problemi di qualunque tipo poi mi si chiedeva appunto quali quando debbano essere fatti i controlli sanitari ogni club di razza a seconda dell'animale che si alleva pone dei paletti di con come dire in accordo con con le centrali letture ortopediche per ogni razza c'è una data particolare in cui devono essere fatti i testi ufficiali per la valutazione appunto del stato di salute delle articolazioni almeno ufficiale ovviamente va da sé che per la dispersione anche del gomito ad esempio se parliamo di questo quindi test ortopedici controllo prima vengono fatti meglio è per un semplice motivo se si pensa di dover utilizzare il cane non come cane compagnia ma come cane in buona sostanza da lavoro e quindi richiedendo alte performance fisiche al cane in buona sostanza siccome la dispersione dell'anca ad esempio è comunque insida nel patrimonio genetico del cane nonostante i genitori possano essere sani anche i nonni l'idea è fare una prevenzione molto molto precoce perché ad esempio a quattro mesi appena si inizia a vedere un'eventuale anomalia delle anche si può intervenire con un intervento molto poco invasivo la sinfioidesi pubblica quindi vuol dire un aggiustamento in buona sostanza del setto del bacino diciamo un'operazione molto economica più si attende più le operazioni tipo di intervento sarà invasivo e più costoso fino ad arrivare a 3.000 euro 4.000 euro per la sostituzione della testa del femore tanto per dire per cui insomma la precocità dell'intervento della prevenzione è ovviamente valida i prezzi della prevenzione comunque sono alti perché al nord Italia una lastra ti può costare intorno ai 250 euro una lastra preventiva in sud Italia in meridione intorno ai 100 euro però ecco è una scelta che va presa sapendo quelle che sono cioè non c'è un optimum bisogna capire un po' quello di cui abbiamo bisogno può essere anche banale anche perché i rischi dell'anestesia comunque ci sono sempre e deve essere fatto in anestesia generale quindi uno deve valutare in contesto col proprio clinico veterinario che comunque normalmente potrebbe avere degli ulteriori interessi su questo o meglio contestualmente col proprio allevatore di riferimento se questo allevatore di riferimento è una persona competente se fallo o non fallo prima però la prima domanda che mi hai fatto era una quali sono in linea di massima i criteri di accoppiamento di tra cani di pari razza che è prevista alla prova di lavoro dovrei parlare per un giorno e mezzo intero sono tantissimi devi dire quali tipi di cani sono ma insomma i criteri di accoppiamento sono vari perché non c'è un ideale ogni cane ha determinate caratteristiche a livello genetico ma non tutte le caratteristiche di un cane vengono trasmesse proprio da prole è sempre una questione di in buona sostanza fortuna e obiettivo in animali differenti dei cani che possono essere i bovini i cavalli vengono fatti in stazione di monta dei test si chiamano i progeni di test ovviamente un campione riproduttore un cane che sai che ha una storia riproduttiva eccellenza che quindi riesce a trasmettere le proprie ottimali caratteristiche genetiche da prole o sul lavoro o sulla morfologia o sulla velocità poi dipende da quale obiettivo devi percorrere come dire offre delle possibilità maggiori di essere un buon riproduttore ma poi va sempre visto se insieme alla tua femmina può dare ottimi risultati non è mai detto non è mai detto quindi diciamo il discorso è estremamente validato e serio quindi se io però se nei prossimi giorni mi scrive ulteriori ulteriori richieste sicuramente potremmo aiutarlo nella nella comprensione del tipo di accoppiamento che vorrebbe andare a fare rispetto agli obiettivi di selezione che lui ha a chi compete il passaggio di proprietà con comunicazione all'AS allevatore o proprietario dipende dalla regione allora l'allevatore ovviamente deve comunicare alla propria AS il passaggio che è stato fatto poi se all'interno della stessa regione il proprietario non deve fare assolutamente niente perché vi è un passaggio automatico ma purtroppo i sistemi sanitari e quindi i database delle AS non sempre in qualche maniera comunicano tra loro quindi ci possiamo trovare ad avere due regioni vicine tramite tipo il Piemonte e la Lombardia che hanno sistemi sanitari informatici totalmente invisibili tra loro quindi ovviamente una volta fatto il passaggio di proprietà in Piemonte l'acquirente Lombardo deve con tutti i dati anagrafici in come dire formato cartaceo quindi nemmeno analogico cioè nemmeno digitale andare a recarsi all'AS di appartenenza sanitario al comune quindi all'anagraficanina e a registrare il cane faccio un altro esempio in Emilia Romagna non è l'AS a detenere anagraficanina ma bensì il municipio quindi il comune quindi ovviamente o la provincia addirittura per cui ovviamente la competenza è la da proprio enti diversi quindi non c'è comunicazione purtroppo lo so che sembra folle ma è così quindi volendo compiere a tutte e due compiere a entrambi bisogna informarsi che dipende sempre dalla localizzazione dei due attori va bene Dario siamo ai saluti ti ringrazio di essere stato qui con noi stasera ah no grazie a voi speriamo di aver dato delle giuste come dire dritte o delle pillole importanti e aver fatto in qualche maniera venire la voglia di approfondire i termini di argomenti con noi su Trafford for Dummies e con la Dertona Trafford Academy va bene io saluto tutti e ci vediamo con Trafford for Dummies lunedì prossimo alle 21 insieme a Luigi Di Bacco per chi sarà allo stage invece ci vediamo questo sabato e questa domenica dal vivo ciao a tutti e buonanotte buonanotte grazie a tutti